Bando promuovere il rafforzamento delle organizzazioni non-profit attive in campo ambientale. Il problema Una risorsa importante per affrontare le problematiche tra uomo e ambiente è rappresentata dall'attività delle organizzazioni attive in campo ambientale, capaci di sensibilizzare la popolazione, di segnalare problemi e di individuare, e quindi diffondere, possibili soluzioni. Tuttavia, non sempre tali organizzazioni sono in grado di rispondere in maniera efficace a tale sfida. Obiettivi Il Bando intende contribuire al rafforzamento delle organizzazioni private senza scopo di lucro operanti in campo ambientale attraverso percorsi di capacity building. Il Bando sosterrà progetti che si prefiggano chiari obiettivi di potenziamento dell'attività ambientale tramite le realizzazioni di specifiche attività di miglioramento. A chi si rivolge Possono partecipare al Bando le organizzazioni private non-profit che svolgano rilevante attività nel campo della sensibilizzazione o della protezione ambientale, che abbiano un'esperienza in tali ambiti di almeno due anni, che operino nel territorio della regione Lombardia o delle province di Novara e del verbano Cusiossola. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!